Eccoci qui con Simonetta di U.Dot qui alla 7 Love. Simonetta, U.Dot mi dicevi prima che cosa fa? Acquista e rivende domini scaduti. Allora sì, in realtà l'attività principale è questa. Ogni mese abbiamo dei nomi di dominio che si liberano e la nostra azienda l'individua attraverso un algoritmo e li mette in una specie di vetrina che è la nostra piattaforma e i nostri clienti decidono quale dominio può essere interessante e si posizionano sopra e noi li catturiamo per loro. Interessante. Sono fuori uscite le estensioni un pochettino più specifiche, punto blog, punto shop, punto... funzionano oppure ancora c'è... No, diciamo che per adesso noi abbiamo 19 estensioni, per adesso quelle che vengono più utilizzate sono sempre il punto com, per l'Italia il punto it, poi ogni paese ha la sua estensione specifica, abbiamo punto OS per l'Espagna, punto FR per la Francia, insomma. Quindi come funziona? Allora io arrivo sul vostro sito, c'è già una lista, una vetrina di domini pronti da acquistare? Sì, diciamo che l'iscrizione è assolutamente gratuita, quindi non abbiamo spese per poter entrare, abbiamo una vetrina di domini, abbiamo diversi indicatori, utilizziamo indicatori di Majestic e di Moz, abbiamo cercato di creare uno strumento veramente utile per i professionisti della SEO e su questa piattaforma è possibile scegliere per tematiche il nome di dominio che può interessare e la cosa veramente utile è che un nome di dominio si porta dietro magari lo storico del sito che vi era presente, uno storico che magari dura da 15 anni e questo storico può essere reindirizzato su un sito vergine che magari non ha ancora una storia sua. Quindi domani vengo sul vostro sito, becco un dominio, vado, che spettacolo no? Così? Sì, esattamente. Ottimo, grazie. Grazie a te e grazie a Sine Lob. Grazie a te e grazie a te.